Essere cittadini attivi e consapevoli significa conoscere le istituzioni che regolano la vita della comunità, sviluppare un senso critico che permetta di utilizzare gli strumenti digitali della comunicazione, orientarsi nel mondo dell'informazione cercando le fonti attendibili e difendendosi dalle insidie delle fake news. È rivolto alle scuole medie superiori del territorio il protocollo d'intesa siglato da Prefettura di Sondrio, Ufficio Scolastico Territoriale e Testate Giornalistiche Locali, tra cui Unica TV. Il progetto, che avrà durata biennale, vedrà i ragazzi coinvolti in un percorso di crescita e formazione a confronto con i rappresentanti delle istituzioni e i giornalisti. Si tratta effettivamente di un'alleanza tra gli enti pubblici e gli organi di informazione diretta a costruire, a implementare nei ragazzi il senso critico, in modo che possano meglio districarsi nella società per individuare ciò che è informazione e distinguerlo da ciò che è disinformazione. L'informazione è una parte fondamentale di una cittadinanza consapevole? Sì, vorremmo favorire un approccio che sia diretto a sviluppare la consapevolezza di essere cittadino della società e quindi conoscere quelle che sono le sue strutture, quelle che sono anche le sue consuetudini e soprattutto avere la consapevolezza di un ruolo attivo in questa società. È importante che i ragazzi comprendano i corretti stili comunicativi e questo può avvenire solo se i protagonisti del mondo della comunicazione fanno loro un po' di lezione. Quindi accanto alla visita a luoghi istituzionali e il primo sarà la prefettura, ci sarà anche questa possibilità di un incontro e di una lezione sul valore della comunicazione istituzionale. Oggi troppo spesso rischiamo che i nostri ragazzi abbiano una ignoranza di ritorno che compromette tragicamente anche la loro capacità di comprendere il valore di una parola a seconda del contesto. Grazie a questo progetto sperimentale che io ritengo veramente un esempio per tutta la regione e anche per tutta Italia, credo che riusciremo veramente a dare delle buone indicazioni e ad aiutare i ragazzi a comprendere quanto è importante il valore delle parole.